Amici e amiche della Voce del Diavolo e del canale YouTube Milan & Lo, ben ritrovati. Siamo qui a commentare non i fatti, perché di fatti non ce ne sono, almeno fatti che riguardino il Milan, non a commentare dichiarazioni, perché di dichiarazioni a casa Milan non ce ne sono. Dopo l'intervista, la conferenza, diciamo, di Antonetto Ibra, non c'è niente. Ma cosa vogliamo commentare di quella conferenza in cui si è detto che il Milan non fa beneficenza e che Gabbia è un giocatore che dovrebbe essere titolare nazionale? Cosa vogliamo commentare? Possiamo solamente stare qui a fare elucubrazioni. Su ciò che forse spiffera da casa Milan, su ciò che riportano i giornali, sapendo bene che i giornali devono scrivere ogni giorno, sapendo bene che quindi la maggioranza, la stragrande maggioranza delle breaking news che ci sono sui giornali sono delle emerite fesserie. Quindi cerchiamo di estrapolare qualche cosa. Allora, prima di tutto torniamo al discorso Zirzè, che poi questo povero Zirzè, alla fine, che io vorrei sia chiaro, ma è un centravanti che non è stato nemmeno chiamato nella nazionale olandese, è stato chiamato perché si è fatto male un giocatore olandese e lui era già in vacanza e infatti non sta giocando. E i centravanti dell'Olanda, i tre centravanti dell'Olanda, quelli che ci sono in attacco dell'Olanda, io non li conosco. Conosco Depay che so non essere chissà che cosa, gli altri non li conosco, o pochissimo li conosco. Quindi non è che questo Zirzè qui stiamo parlando di, non lo so, di Mappé, ecco. Un giocatore sicuro che quindi una follia, ecco. Stiamo parlando di un ragazzo di belle speranze, secondo me con degli ottimi piedi, secondo me con un gran fisico, secondo me, anzi non secondo me, infatti lo dicono, con la capacità anche di essere così scellerato da entrare in campo a San Siro e farle giocate che possono divertirci, però un giocatore di grande potenzialità, ma ancora oggi non è né il titolare né il sostituto di titolare in una squadra olanda che è scarsina, tanto per essere chiari. Comunque su Zirzè, ripeto che io vorrei assolutamente, adesso sappiamo tutti che Zirzè non sta arrivando, non stia arrivando, non arriverà probabilmente perché Milan eticamente dice io non voglio pagare 15 milioni di commissioni su 40 di clausola perché non è morale, perché pagare il 38% di commissioni non è morale. E vabbè, vabbè. La replica del Martinelli di turno, di tutti i tifosi di turno, non certamente degli altoparlanti, dei giornalisti altoparlanti di turno, è, ma scusate, siete in ballo da gennaio con questo Zirzè, adesso tirate fuori il discorso di etica e di cosa, questa è la logica che lo dice allora, perché anche loro, a casa Milan, un po', dico che guardino i video di Martinelli, anche se vi devo dire che ogni tanto, adesso ultimamente no, perché li ho bloccati, ma ogni tanto qualche telefonata da casa Milan mi è arrivata, qualche richiesta d'incontro da casa Milan mi è arrivata per spiegare la situazione e quando mi hanno spiegato la situazione ho detto signore non ho capito niente, la situazione per me è questa, fino a che non vedo fatti diversi, la situazione per me è questa, ma lasciamo perdere. vediamo da casa Milan cosa hanno fatto filtrare a giornalisti che poi hanno riportato la notizia, che è il loro dovere riportare la notizia, niente da dire, magari poi si può riportare esprimendo magari una perplessità, ma comunque il loro compito è riportare notizie, la notizia che hanno riportato i giornalisti vicino a casa Milan, quei pochi che riescono ad accedere alla fortezza blindata di casa Milan è Sì, è vero che sono mesi che stiamo discutendo col procuratore Chia di Zirzè, ma sono cambiate le carte in tavola. Quel cattivone di Chia inizialmente ci aveva chiesto 6 milioni di commissioni, ora sono diventate 15. E che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire? Però possiamo anche pensare, ma è possibile che tutti i cattivoni li trovano loro? Oh ma guarda che sono sfortunati eh! Guardate il fatto di Taremi l'anno scorso, arrivano lì per prendere il giocatore Taremi e lì cambiano le carte in tavola e ci sono da pagare le commissioni. C'è da pagare di più di quanto loro si aspettassero. Che cattivoni! Hanno cambiato le carte in tavola all'ultimo momento. Che cattivone Chia ha cambiato le carte in tavola all'ultimo momento. Che cattivone il procuratore di Chessy che voleva uno stipendio adeguato e ha cambiato le carte in tavola dopo aver detto che voleva rimanere. Vi ricordate che sì a Tokyo che aveva detto io torno perché voglio firmare. E poi non firmò. Che cattivoni! Tutti che cambiano le carte in tavola all'ultimo momento proprio col Milan. Eh ma siamo sfortunati eh! Siamo veramente sfortunati! Non è che ci sarà un fil rouge in questo. Non è che ci sarà un fil rouge, un filo conduttore. Qualche cosa che magari faccia pensare che non c'è la vera volontà di tirare fuori 55 milioni. Non c'è la vera volontà di comprare un centro avanti forte, giovane. Non c'è la vera volontà di dare ingaggi pari o commisurati al valore di mercato del giocatore. Parliamo di Teo per esempio. Teo, il fatto di che Teo non venga convocato subito per il rinnovo del contratto a condizioni diverse mi puzza tanto. Un giocatore che viene valutato 70-80 milioni non può guadagnare 3 milioni e mezzo. Non esiste. O quanto ne prende? 3 milioni e mezzo? 4. Penso 3 e mezzo. In un mondo normale in una società normale in una società di gente esperta lo convochi gli fai il contratto adeguato di 6-7 milioni perché quello è quello che deve guadagnare Teo Hernandez e poi magari e poi magari se ci sarà l'occasione cioè o lo usi o lo vendi ha questa cifra pazzesca. Questo va fatto. Che è quello che abbiamo fatto con le AO che è quello che abbiamo fatto con le AO che però è l'unico caso in cui si è fatto bene tutto il resto però abbiamo detto siamo sfortunati e il fatto non è che non abbiamo un direttore sportivo capace non è che Moncada fa giocare solo con le figurine non è che Furlani non ha niente a che vedere col mondo del calcio non è che Dottavio è il nostro direttore sportivo sconosciuto mai visto né sentito è totalmente inesperto no, non è quello è che siamo sfortunati siamo sfortunati e che dobbiamo fare contro la sfortuna nera non c'è niente che si possa fare vediamo le ultime notizie per smontare subito qualcuno che gli è venuta qualche idea così Lukaku Lukaku mi viene da ridere Lukaku si dice in Milan è interessato a Lukaku e Lukaku sarebbe ben disposto nei confronti di Milano allora Lukaku ci vogliono 44 milioni per prenderlo dal Chelsea perché se no fa minusvalenza voi spiegatevi la logica di pagare 44 milioni al Chelsea invece che pagarne 40 al Bologna per Zizè un giocatore che ha 22 anni come Zizè rispetto ai 31 e passa di Lukaku l'ingaggio di Lukaku sarebbe molto alto molto più alto di quello di Zizè e ma le commissioni sì ma perché pensate che invece l'agente di Lukaku per farlo venire al Milan non voglia le sue commissioni non saranno 15 ma è un'operazione da pazzi un'operazione da pazzi non è possibile non è possibile e ma il Chelsea vedrai che poi alla fine se tiri alla fine scenderà dai 44 milioni ne vorrà 30 e continuiamo ad aspettare continuiamo ad aspettare magari l'ultima settimana i giorni del Condor e poi vediamo poi faremo come l'anno scorso che non abbiamo il centro avanti comunque Lukaku io lo escludo lo escludo è fuori giustamente è fuori in questo caso giustamente fuori da ogni parametro che possa andare bene a una società come il Milan e sono d'accordo ma piuttosto l'avrei preso l'anno scorso in prestito l'anno scorso in prestito ma poi abbiamo visto a Roma quest'anno non ha inciso non ha fatto la differenza quindi cosa lo prendo a fare e lo stiamo vedendo anche con il Belgio cosa lo prendo a fare eh ma c'ha il gioco che forse è meglio il suo gioco rispetto a quello di Zirze tu metti Zirze nel Milan metti Leao Zirze e Pulisic e poi vediamo se loro traono con un allenatore appena appena razionale non riusciamo a divertirci io ripeto prenderei Zirze poi c'è quest'altra si dice suggestione Rabiot che è un giocatore forte ma ha non capito cosa serve al Milan cosa fa Rabiot lo mettiamo davanti alla difesa che ci serve un giocatore davanti alla difesa non credo se ci fosse Rabiot sarebbe ridondante Loftus-Cic assolutamente vabbè se vendiamo Loftus-Cic posso pensare di prendere Rabiot ma Rabiot ma Rabiot che è un parametro zero sta rifiutando i 7 milioni e mezzo l'anno netti che gli offre la Juventus per due anni anche lì ci saranno le commissioni che la mamma vuole ma lui li sta comunque rifiutando dalla Juve perché aspetta una squadra che gli dia di più e lui questa squadra che potrebbe dare di più sarebbe il Manchester United lo stesso Manchester che sta che sta puntando a Zirze così si dice ma voi volete veramente devo credere che il Milan paghi un trentenne 31 anni 7 milioni e mezzo 7 milioni e mezzo più le commissioni magari per tre anni di contratto io non ci credo io non ci credo non credo che il Milan possa pareggiare l'offerta che fa la Juve non ci credo semplicemente io non ci credo poi vabbè la fesseria che sta scrivendo la gazzetta in questi giorni accoppiata Lukaku Tammy Abraham Abraham un giocatore che mi piaceva tanto che mi piace tanto su cui però c'è il grosso punto di domanda delle sue condizioni fisiche dopo il brutto infortunio che ha avuto quindi vogliamo prendere Abraham come centravanti prendiamo Abraham Lukaku Abraham è impossibile prendiamo Abraham bene a me piace ma se poi dopo un mese comincia a avere problemi fisici con chi giochiamo? con Jovic e Camarda? ecco giochiamo con Jovic e Camarda vabbè signori alla prossima attenzione a quello che leggete cerchiamo visto che non lo fanno i giornalisti cerchiamo noi di fare un po' di filtro e un po' di critica a ciò che viene spifferato ciao